I feel a day within, it's just beneath the skin, I must confess that I feel like a monster I hate what I've become, the nightmare's just begun, I must confess that I feel like a monster I feel a day within, it's just beneath the skin, I must confess that... Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Ander. Scusate per l'assenza, sono stato via, credo, 3 settimane o adesso non so di preciso. Niente, ora siamo al 5 di agosto, riprenderò a fare i video per il canale, so che ci sono di mezzo le ferie, quindi farò i video, li metterò sopra come ho sempre fatto. Un po' di novità, allora, visto che faccio parte comunque da un bel po' di tempo nel clan di Monster Games, sto lavorando una nuova intro per comunque far conoscere sia il mio profilo come player, ma anche giustamente come membro del clan di Monster Games. Farò nuovi gameplay, adesso come gioco che aspettavo da tanto ci sarà No Man's Sky, che farò una serie molto lunga, poi Sniper Elite 3, che sono riuscito a trovare una chiave di gioco. Ho scaricato Survarium, che è un free to play su Steam, un FPS da quello che ho capito. E ho scaricato anche Evolve la seconda stagione, perché ho visto che è stato reworkato, hanno fatto nuove cose, quindi sarei molto felice di provarlo. Non garantisco molti video su Survarium, perché non so com'è il gioco, lo devo provare, devo capire com'è. Se vedo che il gioco mi prende, magari ci farò qualche video, vedrò di continuare a giocarci. Ovviamente vi ricordo di seguire anche il canale del clan, perché io ovviamente faccio parte del clan, abbiamo un canale tutto nostro. Se siete interessati anche a iscrivervi per qualche gioco, vi lascio nel link in descrizione la sezione dei giochi che supportiamo. Una cosa breve, ci sarà la serie di No Man's Sky, che il gioco è multiplayer, quindi se qualcuno volesse scaricarlo, nessun problema. L'unica cosa è che è difficile trovarsi su quel gioco, infatti è come una sorta di single player. Compratelo se siete sicuri comunque di giocare da soli, perché in compagnia sarà difficile. Come ho detto, sto lavorando le nuove intro, nuovi editing, ho trovato anche nuovi programmi per la registrazione e tutte queste cose qui. Ci saranno un po' di novità, adesso in questa fascia 2016-2017 ci saranno tante uscite dei giochi. Purtroppo, in quanto membro del clan di Monster Games, molto probabilmente a settembre ci sarà una sorta di, diciamo, lista dei giochi nuovi da supportare. Quindi, molto probabilmente ci saranno sul canale Battlefield 1, 75% di possibilità di portarlo. Ho giocato tutti Battlefield e sinceramente vorrei provare anche Battlefield 1 a febbraio for Honor, che sto aspettando da tantissimo. Per quanto riguarda gli altri giochi, vedo cosa riesco a trovare. Se trovo qualche gioco che mi ispira, lo faccio, se no penso di fare una lunga serie magari su No Man's Sky o qualcosa che ho già in possesso. Vi ricordo che, comunque, se il canale vi piace e i video vi piacciono, iscrivetevi così potete darmi una mano anche a fare dei nuovi video. Perché sto continuando ad imparare sia per l'editing, per il banner e tutte queste cose qua. Mi sarebbe davvero un grande aiuto se avessi più iscritti e anche, diciamo, più mi piace non sarebbe una brutta cosa. Niente, penso di aver detto tutto e, come vi ricordo, se volete passate in clan che magari trovate qualche gioco che vi interessa e possiamo fare una partita insieme. Io sono sempre sul TS del clan, quindi quando ho tempo faccio i video e li elito da solo. Niente ragazzi, non mi voglio dilungare troppo, ci vediamo ai prossimi upgrade dei video e buone vacanze a tutti quanti, ci vediamo quando ritorno. Ciao ciao! Ciao ciao!